Per il celebre conduttore televisivo Enzo Tortora l'accusa è pesantissima, e cioè quella di aver trafficato droga in concorso con la Camorra. Così il direttore e presentatore del programma RAI Portobello è al centro di uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana. Viene tirato in ballo da alcuni pregiudicati, i primi pentiti, Pandico, Melluso, Barra ed altri imputati del cosiddetto processo alla nuova Camorra organizzata, capeggiata da Raffaele Cutolo. L'arresto avviene a notte fonda, sono le 4 quando i carabinieri si presentano il 17 giugno del 1983 nella Camera d'Albergo a Roma che lo ospitava e da lì lo portano direttamente nel carcere di Regina Celi. Contestualmente vengono eseguite altre 855 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti presunti affiliati. Enzo Tortola resterà in carcere 7 mesi, poi passerà agli arresti domiciliari. Verrà condannato in primo grado e solo il 15 settembre del 1986, ovvero 3 anni dopo, prosciolto, assolto con formula piena dalla Corte d'Appello di Napoli. È la fine di un incubo ma l'amarezza resta tanta, lo porterà alla malattia e alla morte prematura.